Oggi vi insegniamo come si conservano le olive sotto sale, dall'albero al vasetto, per prima cosa si raccordano le olive. Si mettono in un incidente con acqua sale. Il recipiente deve rimanere a testo, ricoperto. Il recipiente deve rimanere a testo, ricoperto. Le olive vanno mencolato tutti i giorni. Il mangro minaco, raminondi. Il recipiente deve rimanere a testo. 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 Grazie a tutti Ecco il vasetto finito Grazie a tutti